Pare che si stia risolvendo, lo diciamo sempre, ma lo ribadiamo, la questione ospedale, anche se ci sono state delle novità che tu hai commentato una certa cautela sui social. Ma la cautela quando si ha a che fare con la giustizia è d'obbligo, perché chiaramente ogni giudice ha anche una sua visione. Però riguardo la questione dell'ospedale abbiamo avuto l'ultima udienza, il 23 maggio, una causa che si trascina in quanto l'ASL sembra incurante della sentenza positiva, definitiva che abbiamo ottenuto riguardo il piano ospedaliero che prevedeva la chiusura del pronto soccorso H24 a Procima. Quindi abbiamo una sentenza già definitiva, positiva per noi, quindi siamo fiduciosi e è imbarazzante il fatto che l'ASL sia incurante di questa sentenza ed emette degli atti, delle delibere, come se questa sentenza, come se il piano ospedaliero regionale non esistesse. Per cui noi abbiamo impugnato questi atti e siamo fiduciosi in una sentenza positiva in questo senso. E' antipatico lo scontro tra istituzioni, soprattutto nelle aule di tribunale, è uno strumento che non vorremmo mai adottare, quindi mai, come dire, rincorreremo contenziosi. Però qui è in gioco il diritto alla salute dei procidani, quindi se è necessario ricorrere al magistrato lo facciamo senza indugio. Qualcuno ipotizzava addirittura una richiesta di eventuali risarcimenti danni o cose del genere? Questo sarà un aspetto secondario, aspettiamo prima la sentenza. Ripeto, lo scontro tra istituzioni non è mai auspicabile ed è il segno di un'amministrazione purtroppo malata. Quando si verifica lo scontro tra istituzioni c'è qualcosa che non va. E noi come Comune di Procida ci facciamo parte dirigente, siamo sempre pronti al dialogo, perché, ripeto, non ricorriamo cause o contenziosi tanto per farli. Quando è necessario li intentiamo, quando non è necessario preferiamo stare fermi. Il nostro obiettivo è quello di aprire sempre e comunque un dialogo con le istituzioni, perché noi siamo un'istituzione, per cui cortocircuiti come questo che si sta verificando non giovano a nessuno. Ti senti di tranquillizzare la popolazione della nostra isola? Ripeto, io sono anche avvocato, quindi l'esperienza mi ha insegnato che prima di una sentenza bisogna sempre essere cauti. Come ho già detto, sono fiducioso, perché ci sono tutti i presupposti affinché il Tare possa accogliere le nostre ragioni. Se ciò non dovesse avvenire, faremo ricorso in Consiglio di Stato.